Buoni amici, oggi, in Best Top, vi portiamo una lista delle migliori unità disco portatili sul mercato. Porta tutte le informazioni multimediali che vuoi da un posto all'altro in modo sicuro, veloce, ampio e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vi mostreremo i migliori venditori, i più economici e con la migliore tecnologia. Nella descrizione e nel primo commento, hai i link per l'acquisto dove puoi controllare il prezzo, le caratteristiche e le offerte disponibili. Sei pronto? Ecco qui. Nella Top 1, Maxone. Partiamo forte con l'opzione più economica della lista, che di solito è intorno ai 40€. Un modello compatto e sottile che permette di memorizzare fino a 500GB, in modo rapido ed efficiente. È fatto di alluminio ultra sottile da 0,39 pollici, quindi puoi portarlo in giro senza sentire il peso extra. Questo modello ha un ingresso USB 3.0 super speed, da cui è possibile trasferire a velocità fino a 5Gb al secondo, più veloce di altre apparecchiature standard. È multifunzionale, in quanto può essere utilizzato su computer, smart TV, o per memorizzare dati di gioco, riprodurre film o musica. È un dispositivo portatile compatibile con Windows 10, Windows 8, Windows 7 e Mac. Puoi anche usarlo su Xbox One, PS4, Smart TV, Cornbook e altro. Un disco rigido con telaio interno, che può proteggere perfettamente il disco rigido e mantenere il funzionamento fresco e silenzioso. Tutto sommato, un disco portatile, che ha un feedback positivo da più di 28.000 utenti, e quindi, possiamo solo raccomandarvi di acquistarlo dal link nella descrizione. Nella Top 2, Toshiba Canvio Basics. Continuiamo con un modello economico di Toshiba, una marca con una grande reputazione e qualità. Questo modello versatile è davvero veloce, grazie alla tecnologia SuperSpeed USB 3.2. Un disco rigido con una capacità di 1TB, che non richiede l'installazione di alcun software per il suo utilizzo. Ha una finitura nera opaca, che lo rende un modello molto elegante. Vale la pena notare che questo dispositivo può essere collegato ad hardware più vecchio, grazie alla sua compatibilità USB 2.0. Salva i tuoi dati, musica, film e immagini, attraverso il suo cavo USB collegato al tuo computer desktop o portatile, ha una velocità di 5 Gbps, in modo semplice e veloce. È ideale per trasportare i tuoi contenuti digitali e collegarli ovunque tu voglia, dato che è compatibile con il sistema Microsoft Windows, e ha una dimensione di 2,5 pollici e pesa 140 grammi. Ha il supporto di sicurezza del marchio, che lo rende affidabile per qualsiasi tipo di file da salvaguardare. Con una valutazione di 4,7 stelle su 5, più di 85.000 recensioni positive e il prestigio del marchio, fanno di questo disco rigido portatile uno dei migliori rapporti qualità-prezzo. Ricorda che hai tutti i prezzi, le offerte e le opinioni nei link della descrizione e nel primo commento del video. Nella top 3, Seagate Expansion Portable entriamo nella fascia media con una delle migliori marche sul mercato. Seagate offre una qualità estrema nei suoi prodotti. Questo modello offre una soluzione facile da usare quando hai bisogno di aggiungere immediatamente più spazio di archiviazione al tuo computer e portare i tuoi file con te. Ha una capacità di 1TB. Basta collegare e trascinare i file che vuoi salvare, e portarli con te ovunque tu vada. Un modello con risultati di trasferimento dati veloci, grazie alla connessione USB 3.0, che sposta i tuoi file a una velocità di 120 MB al secondo. Esegui rapidamente il backup dei tuoi dati sul tuo computer Windows o Mac con il drag and drop, senza bisogno di installatori. Leggero e silenzioso, quindi spostarlo non è un problema. Porta questo modello a casa con te, e scopri un nuovo modo di spostare il tuo materiale multimediale o di tenerlo al sicuro. Il suo design, la qualità, la connettività e il prezzo lo rendono la migliore opzione nella sua gamma. Nella top 4, Toshiba Canvio Gaming. Se velocità, resistenza e capacità di spazio sono importanti per voi, questo modello di Toshiba, appositamente progettato per i giocatori, a circa 50€, può essere un ottimo acquisto. Godetevi la possibilità di trasportare fino a 25 giochi su questa unità con capacità di 1TB. Questo disco rigido portatile è progettato per ottimizzare l'esperienza di gioco liberando spazio sulla console, così la tua collezione di giochi cresce insieme alle tue capacità. Più tempo di gioco significa più vittorie, quindi non devi più preoccuparti di cancellare i giochi per fare spazio all'ultima versione. Goditi un design elegante, leggero e facile da trasportare che offre una modalità, always on, personalizzata dal firmware, pronta a rispondere al tuo prossimo gioco, così puoi passare più tempo a vincere. Compatibile con Xbox, PlayStation e altre console partner, in modo da poter giocare con stile, o memorizzare i media se si desidera. Con una valutazione di 4,7 stelle su 5, è la migliore scelta nella sua gamma, e con oltre 85.000 utenti che l'hanno già provata, vi consigliamo di acquistarla. E infine, nella top 5, Seagate Barracuda. Se sei un pignolo per la qualità, la velocità e la capacità di archiviazione nel tuo disco portatile, questa opzione ad alte prestazioni di Seagate è un best seller. Memorizza tutto ciò di cui hai bisogno su questo modello con capacità di 2 terabyte, che offre un modo veloce per aggiornare le prestazioni del computer. Vanta una velocità di trasferimento di 220 megabit al secondo e una velocità di rotazione del disco di ben 7200 giri al minuto. È dotato di tecnologia di autocrittografia del disco e di Instant Secure Rase basata sull'hardware per fornire la massima sicurezza ai vostri file. Gestisci progetti, controlla le applicazioni e fai multitasking come un professionista con questo disco portatile con tecnologia di caching specializzata per un flusso di dati ottimizzato e un caricamento più veloce. Un modello compatto, robusto e facile da trasportare, in modo da poter fare il backup di ciò che ti serve in qualsiasi momento. Da Best Top, vi consigliamo questa apparecchiatura ad alte prestazioni, con la quale potrete godere di un'esperienza eccezionale dal salotto di casa vostra. Hai dubbi su qualche modello? Scrivete nei commenti e li risolveremo al più presto. Grazie per essere rimasto fino alla fine. Se ti è piaciuto il video, sostienici con un like, e ricordati di iscriverti per vedere altri video dei migliori top sul mercato. Alla prossima!